Sapri, Salerno, un successo di pubblico e di critica la serata in onore di Lucio Battisti, ideata dalla giornalista saprese Antonella Grippo. Dopo il successo della seratona Mango, con la partecipazione del chitarrista del cantautore di Lago Negro Graziano Accinni, Antonella Grippo, valente giornalista e regina del talk show, ci ha regalato, con l'attenta reghia di Matteo Martino e coinvolgendo, alcune persone hanno anche cantato, il numeroso pubblico presente nella splendida villa comunale, un'altra indimenticabile serata in onore di Lucio Battisti. Anche in questa magica kermesse, con il cantante e musicista Carlo Maria Todini, molto bravo il suo chitarrista, protagonista assoluto, è stato il sindaco Antonio Gentile, che, oltre a parlare con competenza di musica e battisti, ha anche cantato, accompagnandosi con la chitarra. Sulla notizia 24 di questa sera sul canale YouTube di La Voce del Meridione, servizio a cura di Tonino Luppino.